verità vg è una corsa universitaria categoria g premio anassimandro verità vg zimba de chak artan video rock b zidev di elena zapata zaguero vannisco actono m zemi alter bosco dei mar quattro i cavalli che non sono dietro la macchina verità vg poi zemi alter bosco dei marre acton m gli altri sono ben schierati dietro il mezzo meccanico mezzo meccanico che in movimento sta per staccare al comando emerge zi video rock b che tiene a largo zaguero che cerca di convergere alla corda ma c'è zapata che parte abbastanza bene zapata che passa a condurre a largo zaguero che insiste proprio su zapata quindi zapata si sistema anche zaguero che cerca di prendere la seconda posizione ma c'è video rock b che insiste quindi zapata ancora video rock poi zaguero a largo banni sco che viene avanti artan quindi 29 8 i 400 metri zaguero a largo di zapata a largo c'è anche il numero 2 zimba de chak zimba de chak la scia viene presa da artan quindi 46 per i 600 metri di gara ed è proprio zapata a condurre zaguero a largo poi ancora video rock zimba de chak zimba de chak spettatore interessante artan quindi zapata 1 e 2 per gli 800 metri zaguero a largo muove in terza ruota artan che viene avanti ma zapata scappa zapata poi zaguero ancora artan che aggira a largo 1 18 e 2 il chilometro quindi zapata ancora zaguero zapata che sembra fare corsa a sé in un parziale in 14 7 fa molta selezione quindi zapata ancora zaguero poi video rock b banni sco a largo zimba de chak quindi zapata curva conclusiva 15 e mezzo la curva zapata si gira a guardare il giovane jacolino ed è zapata che vince in progressione con netto di stacco da zaguero al terzo posto il numero 4 video rock b quindi 6 7 4 l'arrivo ufficioso di questa terza corsa 2 5